Il mondo è cambiato. Milioni di persone cercano informazioni, risposte, soluzioni e le vogliono subito. Noi vogliamo essere lì. Con una nuova community. Forum, weblog, newsletter. Nuovi strumenti dedicati alla vita della community. Una community aperta alle tue idee, che sa ascoltare le tue domande e si fa carico dei tuoi problemi. È lì per te, per darti informazioni, risposte, soluzioni. Un mondo in cui ognuno è libero di creare il proprio futuro. E mentre lo fa, contribuisce a realizzare il successo di tutti. Un servizio migliore, più organizzato, più efficiente. Una vera community. Solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi. Oltre 70.000 persone usano MAGO nella piccola e media impresa. Oltre 18.000 utenti finali. 1.300 tecnici e consulenti certificati. 190 sviluppatori certificati. 50 soluzioni verticali industriali. 460 partner in 6 paesi europei. In Italia. In Europa. Nel mondo. Microarea. La nostra community è anche la tua.